Allora sono qui con il disegno, questo che ho chiamato parametrica 3 e naturalmente devo finire perché abbiamo le ultime due lezioni, le ultime due ore il sabato che faccio la verifica e dunque su questo tipo di esercizio e dunque voglio finire perché così avranno il video con la parte finale. Ok? Naturalmente noi eravamo fermi al fatto che avevamo fatto la discussione sulla scelta del piano, naturalmente il mio allievo aveva fatto il piano quello giusto ma però mi aveva indicato o avevo capito male io questo, ma questo non serve, ok? Non serve. Dunque non serve, ma non serve nemmeno il piano perché visto che mi sono messo in centro, io il piano di fare la rivoluzione, di fare questi, adesso non ho capito bene perché mi devo ricordare se l'avevo fatto anche dall'altra parte quella svasatura e andremo a controllare. Poi ne faccio uno che semmai faccio la specchiatura per vedere il peso, ok? Per vedere il peso perché il materiale era 1.0577, dunque adesso devo pure andare a trovarmi il materiale che sicuramente è un acciaio, ecciaio in lega 1.0577, perdonati ma se la grisa di solito è 0 però 1.0558, dunque questo non è, non mi ricordo, devo per forza andare a guardare, non c'è neanche una ricerca perché se io faccio una ricerca 1.05 e c'è, c'è, non ce l'ho mai arrivato, adesso devo fare anche il video per fare perché avevo provato diverse volte e non ce l'ho mai riuscito, invece c'è, perfetto, perfetto, dunque dovevo fare il video specifico, dopo lo faccio, dunque vado a cliccare applica chiudi, non lo sapevo, l'ho provato a caso, però che mi ricordo, io mi ricordo avevo provato con la 2019, non ce l'ho riuscito, si vede può darsi o magari invece era una cosa già uscita ma posso, posso ricordare, dunque devo fare un video apposta perché così ricerca del materiale, perfetto, perfetto, non lo sapevo, e dunque devo fare il video così dopo mi ricorderò che si può anche ricercare, dunque 1.0577, ok, a posto, adesso andiamo a fare, come si dice, mi è sfuggito il nome, sono troppo vecchio, queste svasature, ecco, la svasatura, adesso voi non ce l'avete qua sul disegno, poi lo metto col video editing, la svasatura, l'ultima, alla fine il pezzo è così, ho fatto praticamente tutto, mi manca la svasatura qui, poi andremo a controllare con B5, vedere il peso, se serve anche dall'altra parte o no, perché non mi ricordo sinceramente, dal disegno, teoricamente c'è solo da una parte, ma per me è difficile che abbia fatto, dovevo segnarlo, il disegno non è proprio completo questo, ho sbagliato a mettere, perché è passante, ma dall'altra parte c'è, guardando qua non c'è dall'altra parte, dunque ce n'è uno solo, probabilmente sarà così. A questo punto vado, ok, vado a fare, vado a fare, dunque mi metto, io ho già il piano e c'ho questo, è inutile che vado a crearmi un altro piano, ho già quello in mezzo, visto che mi sono messo in mezzo, ho avuto l'accortezza di mettermi in mezzo, non devo andare a creare nessun altro piano, ecco perché l'importante, quando io faccio una parte che sia simmetrica, l'origine deve essere lì, perché sono più veloce, ok, a questo punto vado a fare lo schizzo, andiamo a farne uno solo, se voglio vado a fare così, tanto per vedere dove sono, e andrò a fare un, qua addirittura posso pure prendere il centro, ok, dunque so questo qua, so questo che sono in mezzo, e dunque devo andare a fare una svasatura di un quarto, ok, di B un quarto, dunque devo andare comunque anche a trovare B un quarto per 45, ok, allora come faccio, come faccio, dunque noi avevamo detto che quelle forature lì, e già, dunque io qua, se io vado a mettere qua, questo qua, da qui a qui, ok, andiamo a vedere, ok, questo qui, andiamo a vedere, questo è 10, dunque questo è raggio B quarti, e dunque questo è 10, però io devo sapere, adesso non mi ricordo, non mi ricordo quanto era B, A è 20 per forza, dunque adesso noi portiamolo, perché se no mi confondo, eh, se no mi confondo, ok, dunque questo qua, andiamo a vedere, e questo è 5, dunque sul diametro abbiamo B mezzi, e dunque siamo corretti, ok, adesso devo andare a fare una svasatura che è, che è B quarti, ok, e lì sono B mezzi, ok, dunque devo andare, farò così allora, allora andiamo a disegnarci il triangolo, ok, il triangolo, siamo qua, dunque devo prendere il piano, quello giusto, mi prendo questo piano, ok, faccio lo schizzo, mi metto qui, e vado a disegnarmi un qualcosa del genere, ok, posso disegnarmi un qualcosa del genere, ok, dunque noi abbiamo fatto, in pratica è una svasatura, ma è come se fosse uno smusso, ok, dunque possiamo anche semplicemente andare a quotare questo, da qui a qui mettiamo 45, da tanto l'angolo rimarrà sempre lì, non è legato, questo lo possiamo andare a mettere in mezzo, ok, perfetto, però io adesso questo qui sarà 5, ok, e 5 è, se noi andiamo a vedere questo qua è B mezzi, ok, dunque così non va bene, ok, perché, perché se ho questo lato, questo lato però, andiamo a vedere questo, perché a questo punto, se noi andiamo a vedere questa qui, da qui, questo qua è 2,5, dunque B mezzi, ho fatto uno smusso di B mezzi, ok, andiamo a fare la rivoluzione, andiamo a fare la rivoluzione, è uno smusso di B quarti, e dunque siamo a posto, dunque andiamo a farlo, facciamo funzione, taglio estruso, andiamo qui e facciamo questo, ok, ok, a questo punto andiamo a, lo voglio fare così, andiamo a, vedete che io sono a posto, sono qua al limite, proprio sono come sul disegno, disegno, ok, andiamo a valutare naturalmente, però io devo mettere che questo è 5, 5, ok, 5, questo è diventato perfetto, adesso andiamo a valutare, valutare, io ce l'ho qui, l'ho messo qui, però, io poi avevo cancellato, adesso con le schede vado a metterlo, però a me non serve, ok, me l'avevo fatto quando, domenica ho fatto la certificazione, così non buttavo via tempo, dunque vado a fare proprietà di massa, la mia massa è 7,82, dunque, no, è 7,14, ok, qui io ho 7,071, 6, ok, andiamo a vedere adesso, a fare questa, specchiandola, dunque mi metto, sul piano destro, vado a fare funzioni, ripetizione, specchia, ok, specchia, cosa, specchiamo, specchiamo questa, metto, ok, andiamo a valutare, dovrebbe, dovrebbe adesso fare giusto, dunque posso fare da qui, o come ho detto prima, a valutare proprietà di massa, da qui, 7,07, siccome ho detto tre cifre, dunque vado in opzioni, vado, usa impostazioni personalizzate, uso 3, ok, 0,071, dunque è giusto, ok, è giusto come ho fatto, ed è anche dall'altra parte, c'è anche lo smusso, come si vede qui, dall'altra parte, ok, dunque, il fatto di questo disegno, è che è completamente parametrizzato da una quota, senza usare le equazioni, ho usato semplicemente la geometria, ok, naturalmente, la motivazione didattica, a mio avviso, c'è, perché innanzitutto, i ragazzi prendono manualità, in primis, prendono manualità sullo strumento, secondo, questo mio modo di fare è perché così gli abituo a usare le quote il meno possibile, il meno possibile, cioè il concetto è che per seguire l'intento del disegno, dobbiamo usare più le relazioni geometriche e meno e meno le quote, a mio avviso aiuta anche, a mio avviso dovrebbe essere affrontato prima questa cosa qui, questo modo di disegno, perché così aiuta anche, per me, anche la geometria, i corsi di matematica, perché a questo punto concentricità, cioè tutte le uguaglianze, vedere, ragionare sui triangoli e un cateto e così via, a mio avviso gli aiuterebbe, già cominciando già, a mio avviso, dalla prima a fare questi ragionamenti, poi, vabbè, questa è la mia idea, però posso sbagliare anche, dunque, il vantaggio stupendo è questo qua, che io vado a modificare una quota e se ho fatto bene le cose, ok, questo qui, anche se vado a 200, questo qui, in un attimo, si è modificato, tutte le quote si sono modificate, modificando semplicemente una quota e questo per me, alla fine, è il concetto di parametrizzazione, ok, spero di essere stato chiaro, ok, utile soprattutto, ci vediamo alla prossima, arrivederci.